Ciao ragazzi, bentornati con le ricette dell'amore vero. Oggi preparerò per voi le alici marinate, un antipasto di pesce fresco davvero prelibato, tipico del sud Italia e in particolare della Puglia. Realizzato con le alici fresche più grandi e polpose, questo antipasto è gustoso da mangiare con del pane pugliese e perfetto anche per condire bruschette e crostoni. Andiamo a vedere cosa occorre per realizzarle. Per preparare le alici marinate occorrono 250 g di alici fresche, un mazzetto di prezzemolo, uno spicchio d'aglio, un succo di un limone, un cucchiaio d'aceto, mezzo bicchiere d'olio d'oliva, un peperoncino e del sale grosso. Ora andiamo subito a prepararle. Per prima cosa pulite accuratamente le alici fresche. Per vedere la video lezione per pulire perfettamente le alici cliccate qui. Disponete le alici pulite su di un piatto assieme a del sale grosso per disinfettarle. Fatele riposare così in frigo per un'ora. Ora occupiamoci della marinatura. Spremete il succo di un limone e versatelo all'interno di un piatto contenente olio e aceto. Poi pulite l'aglio e dividetelo in tre. Versate anch'esso nella marinatura. A questo punto tritate finemente al coltello il prezzemolo. Aggiungete il prezzemolo e mescolate il tutto per farlo bene insaporire. Mettete poi anch'esso in frigo per un'ora. Ora prendete le alici pulite e sciacquatele con abbondante acqua corrente per eliminare tutto il sale in eccesso. Prendete una teglia e disponete sul suo fondo le alici marinate, con la parte interna rivolta verso l'alto. Dopo averle disposte su tutto il fondo, procedete a mettere qualche cucchiaiata della nostra marinatura. Continuate poi con un secondo strato di alici e poi con un terzo, intervallando sempre con la marinatura. Coprite poi con pellicola e fate marinare in frigo le vostre alici per almeno 6 ore. Ed ecco pronte le golosissime alici marinate. Ragazzi questa ricetta è davvero buonissima e tipicamente estiva, sono sicura che vi piacerà e sono certa che la proverete. Fatemi sapere con un commento, mi raccomando mettete mi piace e condividete questa videoricetta con tutti i vostri amici. Io vi ringrazio sempre per l'affetto e per le numerose iscrizioni, anzi vi invito ad iscrivervi al mio canale per rimanere aggiornati su tutte le ricette. Un bacione a tutti, ciao!